A 22 anni avevo già realizzato il mio sogno. Avere un piccolo bar, tutto mio. Il locale era sempre pieno di chiacchiere, risate. Amavo quel suono. E poi i debiti, la crisi. Quando ho tirato l'ultima volta giù la sala cinesca c'era solo un gran silenzio. Non è questa la vita che voglio. La povertà può nascondersi ovunque. Opera San Francesco per i poveri da più di 60 anni accoglie e aiuta chi vive in povertà. Fai anche tu qualcosa di concreto. Destina il tuo 5x1000 a Opera San Francesco per i poveri.